e benvenuti a questo nuovo video su free fire un nuovo gioco non ci siamo mai venuti il mio primo video su sto gioco sempre brawl 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 basta ho voluto cambiare scendiamo questa musicetta ecco bellissimo molto meglio beh adesso spacchiamo tutto su free fire volevo fare call of duty o pubg solo che su questo telefono è troppo pesante non funziona aspettate vediamo vabbè non so niente comunque terriamo la acceleratore andiamo di qua non so dove sto andando però comunque andiamo in quella casa la sembra bella adesso si apre da solo vogliamo andare in quella la ma vabbè comunque ci sta anche questa già una roba si lo zaino è utilissimo raga ve lo dico potete prendere mille robi se non potete prendere al massimo due pistole o vabbè posso prendere di tutto di tutto cos'è questo? ah sembra lo zaino le munizioni me le prendo grazie ho già un pompa e ci sta no anzi ne ho due questo credo che fa più schifo vabbè sembrano uguali non è che cambia tanto qua c'era un'altra oh non è una casa cos'è? c'è il simbolo di free fire vabbè chissà si ma è tipo identico a pubg secondo me eccolo cosa vuoi fare non dirmi che mi ha rubato tutto da qua ok eh non mi ha preso niente cosa vuoi? vai vai che prendo tutto no perché? sai no perché lascio? lascio questo prendo questo dai oh perché mi lascio le robe? eh è figo fare così non voglio cambiare ecco prendo questo e adesso lo cambio no togliti te vabbè chissà oh ma vai oh perché? non posso cambiare questo vabbè non so niente di queste robe M60 qual è il meglio questo? questo oddio buono stupido cosa dov'è? 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 cosa scappi? cosa vuoi? dove vuoi scappare? oh raga forse era meglio ma sono tutti pompa dai ma fai vieni qua vabbè da dove voglio spararli bam 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 vai a a casa vediamo ok rubiamoli questo ma non avevo un niente oh un famas ci sta si ma non ho munizioni vabbè dai oh cos'è quello? cos'è quello? oh cos'è quello? cos'è quello? no ci vado immediatamente cos'è quello? prendiamoci questo che sembra utile no 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 mi sparano mi sparano da dove? da dove? infame vieni qua dai ok ho munizioni vieni qua infame mi è scappato dai dai che lo giungo fai che lo ammazzo ecco due kill raga la prima volta che gioco non lo so forse non è la prima e prendiamoci tutti vabbè non dico niente comunque non abbiamo medikit ma cosa serve queste cose non lo so vabbè dai 28 dai ci sta andiamo che giochiamo e cos'è? eccolo free fire bellissimo gioco si si bello ok cosa ho fare? grazie cosa ho trovato? niente niente praticamente non ho trovato niente ho trovato una skin cosa ho trovato? non me ne importa di queste robe cos'è? boh si ok ciao oh ecco cos'è cambiato la skin figa bella vediamo cosa avevo questo si avevo questo no voglio cambiarlo voglio quello di prima vabbè ci sta anche questo chi se ne frega non so niente di questa roba sto gioco vuoi partire 11 secondi dai dai 3 2 1 eccolo free fire figa sta foto però comunque fighissima anzi sta moto soprattutto quanto ci mette? eccolo mettiamo ste robe ma cos'è il logo di free fire era un serpente mi alleno intanto sono una pistola o non ho munizioni faccio così po 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 andiamo nel caso fatti sotto fatti sotto eh cos'è se sono c'era ancora il coso che ho messo vabbè dai che adesso spacchiamo tutto voglio fare una vittoria reale vabbè non so se qua si chiama vittoria reale come su fortnite dai perché non c'è il tasso ecco no direi di scendere qua sembra bello questo coso no forse era meglio se non c'è andavo sembra che ci sarà molta gente gente mio dio paura cioè sembra gigante sicuramente c'è molta gente in sto coso sì che c'è c'è tantissima gente non molta no no andiamo dai 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 scendi scendi non ecco e prendiamo tutto sarebbe utile uno zaino dai oh cosa fai ho preso tutto figo st'arma ma cos'è che avevo in mano questo fighissimo cos'è ma il mirino come perché è sempre tutto uguale vabbè mi servirebbe un po' un pa comunque chiedo solo questo quello che sono munizioni sì oh lo zaino ma qual è è meglio due zaini si possono prendere sì oh porca cosa fa ma cos'è oh cos'è un pompa oh non so io cos'era quello vabbè vabbè chissà ma poi cos'era quel tizio era c'è mo no 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 c'è quel tizio di prima dio mio cosa li faccio c'è mio padre intanto che urla sì fammi prendere tutto ma dov'è sto tizio beh chissà dov'è eh chissà dov'è oh forse forse uno scagnozzo uno scagnozzo ma dov'è la save zone che mi stai dicendo andiamo qua so io ma dove eccolo infame ma è morto no ci sono altro ma dove scappi fame no ho lasciato solo un angelo credevo che era una cassa una cassa uh munizioni le prendo ovvio se no come fai a sparare cos'è quello no no ecco una roba per spostarmi solo questo mi serviva si però fa schifo un po' vabbè chissene almeno una roba io sono sulla save zone a causa voi ma dove sono sì sono nella save zone nella save zone è di qua credo tra 5 secondi sarò sulla save ma 5 4 3 oh non va dai vai 3 oh mio dio 2 sarò sulla save zone 1 allora cos'è sta roba sì ma sì che sono nella save zone che ne so io avevo visto una persona qua comunque come perché non va attento non cadere eccolo eccolo ma come fa a spararmi ma vieni qua che te uccido a parte faccio meglio curarmi aspetta dai non ho medichine ma che c'è volo no dai vieni ma da qua lo posso sparare cos'è sta visola io sto fermo qua lui si muove oddio ma vai via io l'ho ucciso vediamo questo questo con un colpo lì in testa li smonti tutto in testa li smonti con un colpo li smonti in testa dai neanche con un colpo lo colpi eccolo muori se non ha merda se non ha un medichine madonna se non ha un medichine cosa faccio eccolo avevi un coso un casco questo si non lo voglio boh vabbè me lo tolgono da solo ma curati questo lo devo ricaricare prima curati se non mori non so come si scarica vabbè si vado in una parte lo uso non dovevo muovermi ma dov'è che sta ecco dove stanno le mie cose sapevo eccolo vini qua ma vini qua dai faccio schifo in testa in testa boh ecco vuoi era pure il cinese aveva il nome cinese bello il tuo nome comunque ma perchè vuoi prendere le robe da solo magic kit prendi magic kit ovvio che lo prendo eh munizioni dopo vede scappare le munizioni le prendo tutte cos'era ah ok dove la save zone guarda qua vai dai prendi l'auto vabbè l'auto sarà in cina adesso sta pistola è fortissima comunque quella che ho in mano no dai andiamo veloci scappiamo lo metti avanti no nello zaino non ho tanto spazio non prendi niente però guida oh 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 nemico 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 ma si può costruire non credo volevo dire nemici 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 piano 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 che cacchie è spricciato si è andato guardiamo è sparito eccolo no 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 dove è andato è sparito scappa oh da dove è che mi sparano chi è che mi spara exxot no nessuno mi ha sparato cosa dico eh si quanti però eh hanno chillato oh 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 no oh un cavolo da dove è dove è dai miseria medicit come si fa hai dentro il coso io me lo faccio sto medicit si pone se muore madonna spacca tutto bene qualcuno qua prendi un nuovo zaino il cecchino il cecchino si il cecchino porca miseria spacco tutto basta cecchino cosa volete dove siete si può si può ringrandire si però la mira del cecchino non è uguale a come quelli spaccacciato no for safe for safe for safe for safe adesso devo sparare con questo non è che sia forte non è tanto forte si però alla fine uso il cecchino perché no io devo prendere questo fortissimo però mi lascia il cecchino no mi hai lasciato il cecchino si vado vabbè quello non lo posso vabbè chi se n'è dai no 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 ecco lo sapevo che non dovevo farlo eh se c'è un'auto io dovevo voler scappare ma dove vai ma è quello dell'inizio quello delle scale ma vai via no mi spara mi spara adesso ah ok ho imparato come si può salta non posso eccola porca miseria e non dire queste cose io mio sbattuto cos'è? adesso adesso lo infesto adesso lo infesto adesso lo infesto mamma mia mamma mia non mi dire che non ha un medikit ok si che ne ha medikit ma si è l'elettricello vabbè non posso prendere altra roba lo zaino è pieno no la tempesta la tempesta la tempesta la tempesta la tempesta dove è la safe devo andare in safe è che lo infesto anche questo no questo no vabbè porta basta essere vivo dio la macchina è distrutta scendi 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 eh vabbè mi hanno chillato si però la prima partita si è stato ma lì oh che numero sono? 5 grazie per ancora no dai no siete seri dai seri 5 quarto 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 non ci credo dai no vabbè no 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 gioco di nuovo basta non è che finisce il video si che finisce uh grazie 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 di tutte queste robe cosa sono skin vabbè eh andiamo qua oh io so dove cambiare il coso aspetta qua dove cambiare skin eccola cambiamo scusate e cambiamo no questo deve essere così non di quei colori questo qua glodio change aspettate clodio aspetta questa mai no mai ho detto no metto quello di prima che è meglio lui ecco lui ok ciao a tutti commentate se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanilla bella bella bella